Il terzo si chiama giornata internazionale dei diritti della donna e non come viene chiamata semplicemente festa della donna, anche perché chiamarla così rischia di nascondere il vero significato della ricorrenza. Non è la celebrazione del sesso femminile in quanto tale, ma un invito a riflettere sulle lotte passate e sulle conquiste sociali ottenute e su quelle ancora da ottenere che riguardano appunto la parità dei generi. Il forte significato politico dell'8 marzo è all'origine anche di questi errori che si fanno. Ci sono tantissime bufale ad esempio che riguardano l'8 marzo. Quella più celebre, il falso storico più celebre, parla di un rogo avvenuto l'8 marzo 1908 all'interno di una fabbrica di camicie di New York nella quale avrebbero perso la vita decine operai. Alcuni dicono al 134, al 1340, sta di fatto che non è esistito nessun tipo di incendio in questa fabbrica, soprattutto l'8 marzo 1908. Un incendio ci fu, ma fu il 25 marzo del 1911 e in quel caso, sempre a New York, morirono 146 persone, in laghissima parte donne, ma anche uomini, e molte di queste donne immigrate dall'Italia o dall'Europa orientale. Detto questo, l'istituzione della giornata internazionale della donna, dei diritti della donna, è del 16 dicembre 1977, molto più recentemente istituita dall'ONU, che ha recepito tutta una serie di movimenti che sono poi sviluppati nel corso degli anni. I primi semi di questo risultato, appunto arrivato nel 1977, sono addirittura riconducibili al 1907, 70 anni prima, quando, al VII Congresso della II Internazionale Socialista, la risoluzione finale del lavoro impegnava i partiti socialisti a lottare energicamente per l'introduzione del suffragio universale delle donne. Quello era stato veramente il primo moto verso la parità delle donne, perché stiamo parlando dell'inizio del XX secolo, quando le donne non potevano ancora votare. Era necessario celebrare la giornata delle donne e la prima si tenne il 23 febbraio 1909. Un anno più tardi, durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste di Copenhagen, 26-27 agosto 1910, fu avanzata poi la proposta di istituire a livello mondiale una giornata dedicata alla rivendicazione ai diritti delle donne, stiamo parlando ancora di 67 anni fa. La svolta decisiva venne a San Pietroburgo l'8 marzo, ed ecco che compare per la prima volta l'8 marzo, 1917, comunque 60 anni prima dell'istituzione dell'ONU, durante uno sciopero di donne per chiedere la fine della guerra. I cosacchi, incaricati di dare una lezione alle manifestanti, risposero in modo molto blando e questo incoraggiò ulteriori manifestazioni che contribuirono al crollo dell'impero zarista. E si arrivò così piano piano a tutte le altre date, comunque un lavoro che è stato fatto lentamente e che dimostra che altrettanto lentamente probabilmente questi diritti ancora si devono conquistare. Ma intanto conoscere la storia è fondamentale. Grazie a tutti.